Ecco, Argentina, questa è casa nostra. E anche casa tua. Non te la ricordi? Non ti viene proprio in mente niente guardandola? No, no, è la prima volta che ci entro. Ma, e... non ti ricordi neanche di Ciaci, il nostro cane? Ciacchè? Ciaci! Gli abbiamo dato il nome insieme! Non ho mai sentito. Allora ti mostro la tua stanza e dammi la valigia perché devi rimettere le cose a posto. Io vado a lavorare, ok? A stasera. Intanto io pulisco un po' casa. Chiamatemi se avete bisogno. Sì, mamma. Questo è il nostro bagno. Aha, mai visto. E questa è la tua stanza. Oddio! È molto... molto, molto colorata. Sì, a te piace il colorato. Soprattutto il rosa e l'argento. Rosa e argento. Certo. Vabbè, ti aiuto a sistemare la tua roba. Dopo un po'. Bene, abbiamo finito di sistemare la tua roba. Oh, idea! Potremmo andare a vedere i nostri amici. Magari in pasticceria o alla sala giochi dove andiamo sempre. Ah, sì. Non lo so, Dan. Perché Argentina non può tanto camminare e non potete portarla per tutta la città con la sede a rotelle. Oh, ma speravo che i nostri amici li potessero far tornare la memoria. Poi gli farebbe bene vedere qualcuno in più. Perché non li fai venire qui? Almeno non si deve muovere. Ottima idea. Allora io li vado a scrivere. Tu aspetta qui. E guarda pure un po' di tele. Ok. E io torno a pulire. Ecco, faccio una chiamata di gruppo. Pronto? Ciao ragazzi, sono Danny. Vi chiamo... Sì, è uscita. Beh, sì, si è rotta qualche parte del corpo e ha una commozione per celebrare. Non ricorda assolutamente niente della sua vita. Lo so, è terribile. Non sappiamo quando li tornerà. Oh, e se li tornerà. Ho pensato di invitarvi a casa mia, così magari passiamo un pomeriggio con lei. Magari li torna in mente qualcosa. Eh, ma perché non può camminare tanto? Ok, allora potete venire subito. Ok, a fra poco. Ciao. Ok, vengono. Ok, mi raccomando, fateli tornare la memoria. Ok. Stanno per arrivare. Vedrai, ti faranno tornare la memoria. Ok. Oh, cavolo, Argentina, mi dispiace. Deve essere orribile non ricordarsi niente. Ma almeno di me ti ricordi, vero? Non ricordi proprio proprio niente della tua vita? Come è stato stare in ospedale? Adesso stai un po' meglio. Ti fa male la testa o le parti del corpo? Argentina, dici qualcosa. Eh, eh... Ragazzi, vi prego, diamole un po' di spazio. Lei non sa meno niente chi siete. No, infatti, siete tutti i miei amici, così tanti. Eh, sì, ne hai guadagnati molti, in effetti. E questi sono amici che abbiamo in comune, sia io che te, infatti noi usciamo insieme. Oh, gli amici in comune con mio fratello. Non ti ricordi neanche i nostri nomi? No, ho detto che non mi ricordo niente. Allora, ripresentiamoci. Precere, io sono Luna, la tua migliore amica. Ahah. Io sono Alex, il tuo fidanzato. Ahah. Io sono Giulia e ho un blog di pettegurezzi. Sì. Io sono Blair. Io sono Viola e sono la fidanzata di tuo fratello. Ahah. E sei anche mia amica? Sì. Ok. Io sono Anna. Io sono Carola. Io sono Mark. E io sono Samantha. Raccontiamogli un po' della sua vita, insomma, com'era, così magari, boh, non so. Oh, sì, io all'inizio non ero vostra amica perché vedavate il mio blog, ma poi ho capito che, insomma, non era così importante e non era tanto bello. Infatti adesso non scrivo dei vostri segreti, ma più degli altri e, insomma, non è che pubblico più tantissimo. Io sono la tua migliore amica. Un tempo vivevi in un'altra città e noi eravamo migliori amiche, poi però quando ti sei trasferita, insomma, io ti usavo perché eri popolare e, insomma, poi però quando ti sei tornata e, insomma, avevamo fatto pace. Io sono Samantha, anche io non ero brava, ma poi ho capito i miei errori e mi avete accettata. Io sono Blair. Un tempo ero della città alta e tu una volta avevi un'amica di nome Betty, che era stata la prima amica che hai conosciuto in questa città. però adesso è, insomma, è di la città alta, non è più nostra amica e, ecco, lei, io viviamo nella stessa parte della città e ti usavamo così, poi però io ho lasciato stare lei e sono diventata vostra amica. E io, dopo che... cioè, poi Betty e Danny si sono lasciati perché Betty stava con Danny e poi io mi sono messa con lui e, però, sono diventata anche vostra amica. Io, come ho detto, sono il tuo fidanzato e ci siamo lasciati un po' di volte, ma siamo sempre tornati insieme perché, insomma, ci siamo lasciati così, capita di litigare. Io sono Anna, mi sono trasferita da una altra città e sono la migliore amica di Blair perché vivevamo insieme. Io sono Carola, sono l'ex di Blair, lo so, abbiamo avuto un po' di problemi e... però adesso abbiamo fatto pace e adesso sto con Giulia. Aha, continua. Stelline, nel suo episodio, finisce qui. Che ne pensate di questa cosa che gli amici di Argentina le raccontano tutta la sua vita? Secondo voi servirà, li tornerà in mente qualcosa o la confonderà solo di più? E poi, secondo voi, li tornerà in memoria oppure no? Se sì, tra quanto? Vedeteci tutto nei commenti e iscrivetevi, lasciate like e condividete il video. Ma, ma con chi state parlando? Con le stelline. Cosa? Sono le nostre fan. Noi abbiamo un canale YouTube. Ma ti spiegheremo tutto nella prossima eputa. Ciao! Ciao!